Mediamente, mediamente, nel nostro cioccolacci collocaremo entre un 3% e un 6% di fibra di cacao. Ovviamente se collocaremo 3% teremo un cioccolacci a uleci maes fracchini, un 4% un poco maes forzi, un 5% un poco maes forzi, 6%. Se voglio fare un cioccolacci a uleci molto forte a fibra, a cioccolacci, chegarei a te un 7%. Lembrando che questo, dopo, dependerà molto dal suo cliente, cuidado, perché più aumentiamo la fibra, più amargiamo. Quindi, dobbiamo lasciare il cioccolacci un poco maes doce, in questo caso. E, anche così, può essere che il nostro cliente dirà che, per sé, un cioccolacci a uleci è forte, ok? Quindi, cuidado, diciamo che un 6% io non acconsiglio a cegare un 6% per lo meno a Ghinu Brasil. Nell'Italia, nell'Europa è differente, ma a Ghinu Brasil io non acconsiglio, ok? Nell'Italia, nell'Europa è differente, ma a Ghinu Brasil io non acconsiglio, ok? Nell'Italia, nell'Europa è differente, ma a Ghinu Brasil io non acconsiglio, ok?